Non solo Piazza Marti ricambierà il volto con il restauro delle ex carceri, ma anche via Vittorio Emanuele, via Sottoborgo e via Almuova. Il centro di Borgoticino si presenterà più gradevole. L'opera è stata presentata dalla ditta Mete, dal Comune e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. Un intervento che prevede di ricavare 25 appartamenti e attività commerciali. Ancora, un salone polivalente, un'area verde, un parcheggio e un percorso pedonale per la parte pubblica. L'edificio, risalente al 1800, è stato utilizzato come carceri. Infatti sono ancora presenti i ceppi dove venivano legati i reclusi e legrate alle finestre. A inizio del Novecento è stato utilizzato come albergo, poi come casa del fascio. Costruito in più epoche, si presenta con un edificio del Settecento verso la piazza, con un portale barocco, un'ala di metà ottocento e un torione medievale del 1190, quando il paese è stato fondato. Si aggiunga un cantinone, di cui sono rimasti i muri perimetrali e la ghiacciaia. L'architetto Silvio Angiolini ha spiegato che per il cantinone è stato deciso di mantenerlo con un restauro conservativo e di recuperare la ghiacciaia con la scalinata. All'interno è previsto un giardino. Tutto l'isolato, immutato nel tempo, è sotto vincolo. Il progettista Andrea Lepore ha aggiunto che l'iniziativa è frutto della sinergia tra privato e pubblico. Nel lato che da su Via Nuova si ricaveranno degli appartamenti. Il primo cittadino, Alessandro Marchese, ha affermato che siamo riusciti in soli due anni a un buon avanzamento dei lavori, sebbene si siano resi necessari diversi passaggi burocratici. Il paese si riappropria di una parte importante del centro. Il cuore del borgo torna disponibile al pubblico e ai privati. Il salone polivalente sarà finalizzato da iniziative culturali dedicate in particolare i giovani. Costo complessivo dell'intervento 2 milioni di euro, di cui 250 mila per la parte pubblica. Omar Mete, il titolare dell'impresa, ha concluso l'opera va al di là dell'interesse commerciale. Sono nato e cresciuto a Borgoticino. L'intento è quello di creare nuove abitazioni, esercizi commerciali e recuperare un isolato a beneficio di tutta la cittadinanza.